Musica Mercoledì 28 giugno, Santireneo, è il 179esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 186 al termine. Il sole sorge alle 5 e 24, tramonta alle 21 e 3, la luna si leva alle 15 e 39 e tramonta alle 1 e 38. Musica Viene messa un'ordinanza in base alla quale i giudici e gli avvocati di una stessa causa non possono essere tra loro parenti. Musica Le previsioni per domani, tempo stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso sulle Dolomiti, parzialmente nuvoloso sulle zone prealpine e interne della pianura, maggiori schiarite su costa e settori orientali. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie o localmente in diminuzione, massime in ripresa. Musica 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 Musica